Il Don Bosco Livorno ha vinto la fase finale regionale della 31esima edizione del torneo internazionale di minibasket organizzato dal Cefa Castelnuovo e stacca così il biglietto per la fase internazionale che si svolgerà dal 26 al 28 aprile. La grande festa del minibasket nel capoluogo Garfagnino vede in campo i ragazzi della categoria Quilotti nati negli anni 2013, 14 e 15 e la fase finale del torneo ospiterà anche la consegna del memorial per ricordare Danilo Boschi giunto alla 20esima edizione. La macchina organizzativa diretta dal presidente Vincenzo Suffredini è già concentrata adesso sul lato internazionale con la presenza di squadre provenienti da tutta Europa, Croazia, Ungheria e Lituania e da tutta Italia. Per la Toscana, assieme al Cefa, padrone di casa, ci sarà appunto il Don Bosco Livorno che ha avuto la meglio in finale sull'Etrusca San Mignato, sfida terminata in parità ma decisa dalla miglior differenza a canestri dei singoli quarti di gara. Terzo posto per il Lucca Academy davanti alla cestistica audace Pescia. La squadra lucchese in mattinata si era reso a proprie futuri campioni. Un ringraziamento al Cia di Lucca per la FIP Toscana, per l'importante supporto dato fino a qui per la designazione dei giovani arbitri che sempre si sono dimostrati preparati e all'altezza della situazione.